Cuochi, camerieri, pizzaioli, commesse, addette alle pulizie degli alberghi, figure professionali che stanno attraversando un inverno difficile. La stagione turistica forse ripartirà a metà febbraio, ma gli effetti negativi sono già ingenti, cali drammatici del fatturato per le imprese e posti di lavoro persi. I dati lavorati dalla CIS di Sondio sono eloquenti. Nei settori commercio e servizi la differenza tra assunzioni e cessazioni di rapporti di lavoro nel primo trimestre 2020 ha sfiorato i 4100 posti in Valtenevalchiavenna e in questa stagione zona rossa e chiusura impianti hanno aumentato le dimensioni del problema. Sta avvenendo quello che in realtà è avvenuto già ormai un anno fa, quindi è stato uno dei primi settori a causa della pandemia a essere toccato e a distanza di un anno vediamo che la seconda stagione invernale sembra compromessa. Nelle zone a più alta vocazione turistica aumentano le nuove povertà. Una situazione molto preoccupante perché le famiglie ormai stanno raschiando il fondo del barile, quelle soprattutto legate alla stagionalità e quindi a questi settori. Siamo molto preoccupati perché a oggi chi non ha potuto riprendere il lavoro legato appunto a questi settori vive delle situazioni drammatiche rispetto al proprio reddito. Anche il ricorso di ammortizzatori sociali è esploso. La cassa integrazione ordinaria un anno fa nel gennaio 2020 era testata a 24.057 ore e ad aprile ha sfiorato 2 milioni di ore. Ad ottobre era prossima alle 200 mila ore. La cassa integrazione nell'ultimo mesi di stabilità è stata ampliata per altre 12 settimane. Noi chiediamo che sia il divieto del licenziamento sia conseguentemente gli ammortizzatori sociali vengano poi prorogati. Però nei settori di cui stiamo parlando quindi il turismo, ricettività, ristorazione, in realtà questo 31 marzo non è mai esistito perché essendo legata alla stagionalità e quindi a tempi determinati evidentemente la situazione di mancanza del lavoro ce l'abbiamo ormai da un anno. Non è facile ricollocarsi, trovare un nuovo posto. Condotte unica lavoro di regione Lombardia, i lavoratori, fruitori di ammortizzatori sociali con causale Covid-19 possono accedere gratuitamente ai corsi di formazione. Tra gli enti accreditati lo IAL Lombardia presente a Morbegno.